Buongiorno a tutti, oggi è finalmente giovedì 15 febbraio, sono le 9.35 e torniamo a parlare di analisi ciclica evoluta su DAX e MIB. Questo è il canale più seguito in assoluto di analisi ciclica e di analisi evoluta perché vi racconto quello che poi vedete succedere sugli schermi. La maggior parte dell'analisi è assolutamente corretta e vi metto in guardia da quelli che sono i rischi di un mercato che è da gennaio che ne fa di ogni. Ieri stavamo guadagnando molto bene su DAX, avevamo quasi preso i massimi, stavamo andando short sui minimi, si è girato in un secondo e siamo andati a fare una scalpata di 2-3 tick. Chi ha centrato, chi centrando il target dato dal tecnica 2 ha chiuso, ha guadagnato bene. Chi purtroppo invece non l'ha fatto, come me, si è ritrovato con pochi tic e una scalpata comunque di piacere. Dopo un'altra di quelle giornate in cui, vedete, già solo su MIB si iniziava a ragionare di quanto si può scendere rispetto alla salita fatta, anche soltanto sull'ultimo movimento, dove lo andiamo a shortare, eccetera. Qui, vedete, rischia di partire un nuovo settimanale, viola magari il swing, cioè c'è un rimbalzo sulla media mobile a 200 periodi che è quella che regge tutto il movimento, e poi però si apre così. Si apre così, quindi col dubbio che ci sia un nono, decimo, undicesimo, t-3 nonostante gli swing violati e ci sia in realtà persino un settimanale di inverso già tutto vincolato a salire. Con, anche qui, movimenti che vi faccio notare. A 15 barre può aver chiuso un terzo t-3 inverso? No. Fa due barre di salita pesantissima in apertura e poi questa. E uno dice, ma... Ok. E quindi che cosa facciamo? Prima di tutto togliamo la parte che ci si aspettava relativa a quanto, a dove prendere gli short, ok? Perché sì, sì, i discesi ce ne sono state, ma poi sono state recuperate, eccetera, eccetera. E andiamo avanti così. Andiamo avanti così. Qui vi avevo dato il target che avevamo raggiunto, il target volumetico che ho raggiunto. Prima candela rossa, candela verde che ci può stare per una chiusura di t-2. E poi, aveva senso ragionare di short? No. Arriviamo a quanto? Contogliamolo anche qua. Arriviamo a 11 barre esatte, tra l'altro? Boh, lo vedremo. Lo capiremo oggi, da come si muoverà dai movimenti. Certo sta diventando abbastanza stressante continuare a vedere su e giù, 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 in continuazione. Anche nel gruppo si rendono conto, nel dettaglio, quando faccio vedere determinate cose, che è un mercato estremamente difficile, estremamente, che rischia di spazzare via tante di quelle posizioni. E beh, anche magari di quei fuffaguru che vendono corsi di trading senza sapere fare nulla. Che da un certo punto di vista capisco, ma dall'altro è davvero non semplice fare un lavoro come questo da inizio anno, da gennaio. Continuo a vedere cose, movimenti che vengono rimangiati da, movimenti rapidissimi, oltretutto, che cambiano radicalmente la visione di quello che si poteva avere. Qui ci aspettavamo finalmente discesa per chiusura del mensile, invece no. Siamo di nuovo sopra i massimi a ritestare di nuovo delle resistenze volumetiche. Per cui, per la giornata di oggi, che cosa faremo su MIB? Attenderemo che finisca di salire il terzo t-3 inverso. Anche perché abbiamo centrature alternative? Vediamo un attimo. Qua può chiudere a 22 su MIB? No. Chiudere a 27? Benissimo. Chiudere a 44? Sì. Qui può essere già 26? Sì, fate sì con la testa. C'è stata una violazione di inverso? No, ma intanto sappiamo che è una conferma. Qui abbiamo 4 barre, almeno, prima della tendenza volumetica a salire, sotto questo massimo? Sì, ce l'abbiamo. E quindi cosa facciamo? Le costruiscono bene. Ok? Le costruiscono veramente bene. Trappole costanti. Ok? Per cui, attenzione, stiamo veramente iniziando a scendere? Lo vedremo nelle prossime candele, vedremo come reagiranno le prossime candele. Se proveremo ad andare su e a trovare un top assoluto o a pari di quello già fatto, entro le ore 11.45, prima di pranzo, meno male perché ci sta rovinando buona parte di pranzo di questo periodo, benissimo, saremmo disponibili eventualmente a fare uno short, pensando che possa essere 9, 10, 11, nonostante gli swing violati per la partenza persino di un settimanale, di inverso. Ok? Quindi, quello che vi ricordate, avete visto lo short che ho fatto ieri sul canale? Potete andarlo a trovare negli short. Vediamo se ce l'ho qua. Perfetto, andate sugli short, eccolo qua. Date un'occhiata a questo. Lì, date un'occhiata e vedrete che cosa. Vedrete come, dopo una violazione di swing di minimo, che magari ci dice partenza di un settimanale inverso, se non arrivano volumi, o se arrivano volumi contro quel movimento, non continua, non c'è più quel settimanale inverso. Se, oltretutto, magari mancasse anche il tempo, tutto è cambiato e continuano a farlo in continuazione in questo periodo. Non c'è sosta. Ma, è una lamentela? No, ve lo faccio notare. E faccio notare che non stiamo perdendo soldi in questo periodo. Siamo partiti benissimo anche a febbraio. Ce ne siamo rimangiati un po' su MIB, ok? Perché anche lì... E poi è tornato dove ci aspettavamo che tornasse, ma abbiamo dovuto chiudere, appunto, in perdita, come vi dicevo ieri. Però non stiamo perdendo soldi. Ok? Iniziamo dalla prima regola del trader. DAX, stessa identica cosa. Bellissima discesa. Con dubbio, caspita, ma va a scendere proprio qui. Sì, non c'è nessun vincolo, però... Caspita che discesa! Non è che magari abbiamo fatto un... Abbiamo una centratura diversa. Adesso vediamo un attimo perché... E ci svegliamo qua. Anche qui. Oh, finalmente, da questo massimo può esserci vincolato per sé in un settimanale ribasso. Finalmente andiamo un po' a scendere, perché è anche ora, no? Che si storni dopo aver continuato a fare tutta questa lateralità, aver trovato dei massi... No, siamo qua. Siamo qua sopra. No. Me la rido perché forse un anno fa avrei preso una quantità di sberle micidiali. Quest'anno invece, fortunatamente, dato che l'analisi è evoluta, ha ormai nei risultati, oltre che superato la ciclica base, con questa tecnica 2 andiamo persino a target e se sbagliamo andiamo in pari, spesso, ok? Non su MIB, purtroppo, quando ci vengono veramente conto e mi dimentico di una delle cose che ho imparato di recente. Su DAX, però, ritorniamo un attimo a fare i conti. Qui siamo a 44 barre? Sì, sì, è possibile. Possono ancora poi sparare su se hanno voglia. Verissimo, ok? Certamente si potrebbe trovare un 33 barre qui di chiusura del terzo T-3, un quarto T-3, no, non un quarto T-3 perché, come dicevamo anche qui, tutto quello che serviva per far partire un settimanale ribassista ce lo danno. Ok? Tutto. 48 barre, violazione di swing, tutto. Ci dicono che si viola a ribasso, che si vincola, scusate, a ribasso, ok? Partito il settimanale con tutti i crismi, tutti, ok? Si vincola a ribasso e poi non era partito da qui il settimanale. Quindi facciamo così, mettiamo 7 e lo mettiamo qui per ricordarci che c'era qualche ipotesi differente, ottavo, e continuiamo a cambiare le centrature perché i volumi ci sparano da una parte all'altra con una semplicità come fogli di carta in questo periodo. E noi però, fortunatamente, come avete visto, ci difendiamo bene nei numeri, nei fatti, ok? Quindi questo è il secondo T-3 inverso. La cosa che vi dicevo forse ieri che per me era strana è che su DAX non abbiamo ancora aggiunto il target volumetrico che vi avevo dato. Ho detto, va bene, magari non ci arriveranno, ci possono arrivare dopo, eh, per carità. Adesso devo andare a ricontrollare dove è finito perché se non sbaglio è 17.4, se non mi ricordo male. Sì, attorno è 17.4, ok? E noi siamo passati dalla chiusura di ieri a 16.945, quindi a 455 punti dal target volumetrico, siamo arrivati a 310. Abbiamo fatto, ups, ok? Tra l'altro, in questo modo, abbiamo vincolato completamente il settimanale inverso a continuare a darci spinte in salita per tutta la sua durata. Sì, è vero, qui siamo all'ottavo T-3 inverso, e va bene. Però, ok, e qui abbiamo un settimanale partito in pompa magna. In questo caso siamo al terzo T. Vediamo se vi ho fatto bene i conti. Primo da 11, secondo da 9, ok? Anche se sembrava ne fosse partito un altro, ma facciamo a buon viso a cattivo gioco, ok? E qui siamo a terzo 2, in realtà perché la candela di oggi non si vede. Tra l'altro con... vabbè, dopo il Dax e Nib per la lateralità. Come vedete è estremamente complesso muoversi, ma lo riusciamo a fare persino meglio che su Nib. La cosa incredibile e sconvolgente è quella. E la media mobile continua a tenerci su, ok? Quindi vediamo se a questo punto vogliamo andare a 17.4 prima di mollare. Questo, tra l'altro, diventa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? 6, diventa ribassista, ok? E andiamo a... Oh, che miseria! A quanto andiamo qua? Dunque... Siamo a 36... Con oggi siamo alla 43esima barra? Interessante! E quanto tempo siamo stati qui sotto? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ma da qui hanno voluto far partire un nuovo mensile inverso? Io non dico niente perché... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Qui il tempo c'è. Lo swing avevamo misurato che c'è. Rischiamo di essere su un mensile rialzista. Scusate, su un mensile inverso, già vincolato a far salire i prezzi in alto. E quindi qua come la chiuderemo? Per ora saremo a 20 più 1, 22. Cosa vi ho fatto appena vedere? Che riflessione abbiamo appena fatto? Si può fare lo stesso su Nib? No, su Nib intanto siamo a... Eravamo indietro, se non mi ricordo male. 32 bar, sì, infatti. Maldax. Ragazzi, mi viene più paura ad andare short, nonostante questa salita. Vediamo che cosa hanno fatto, perché... Perché... È vero, con il top assoluto di oggi siamo a 43 bar e chiude un mensile e poi si scende. Però, dato che vogliono essere simpatici esageratamente, simpatici come il mondo, da qui potrebbe essere persino partito un mensile inverso. Io adesso però faccio così. Ok? No, lo devo lasciare. Lo devo lasciare per ricordarmelo. Vediamo se hanno chiuso a... Se stanno chiudendo in 43esima bar a questo mensile, finalmente si scende un po' anche per chiudere magari questo nuovo trimestrale partito da qui, che dovrebbe andare in chiusura almeno del suo primo mensile. E facciamo solo attenzione perché, come vedete, la situazione si presta a una quantità di interpretazioni che non sono... non è da ridere. Quindi cambio il mio programma, anzi, vedo qual è il mio programma. Il mio programma sarebbe andare in bar fino almeno in ventunesima barra alle 10 e mezza tra una quarantina di minuti, dunque 50 sì, 41 minuti, ok? Vedere che cosa iniziano a fare come barre dalle 11 in avanti. Se qui sopra non riescono a tenere la spinta a rialzo, dato che saremmo andati oltre la durata minima dell'ottavo T-3 inverso, quindi scatta il mio allarme di trader, valuterò se fare uno short, anche per fare che cosa? Per andare potenzialmente in chiusura di un... secondo T-3, che quindi potrebbe arrivare dalle... 12.45 in avanti, ok? e chiusura anche del primo T-2, ok? Vediamo se ci dà un bello short tra 45 e 50 minuti orientativamente, oppure no. Intanto sicuramente siamo in eccesso volumetrico. Su Nib, 9, 10, 11 anche qui, è interessante perché anche qui siamo pronti eventualmente a fare un fantastico short, a meno che non ci sia vincolati a rialzo con questo settimanale. Inverso, ho partito, devo ricontrollare con tutti i crismi, il tempo c'è sicuramente allo swing, devo ricontrollarlo, e che si è vincolato a salire, quindi... Ok. Chi magari non conosce ancora l'analisi ciclica evoluta potrà dire se non sale non si scende. Lo capisco, ma chi la conosce bene ha capito perfettamente in che tipo di situazione siamo. È una cosa notevole davvero da inizio gennaio. Vi ricordo ancora che ci sarà il mio webinar, il 21-2, quindi tra sei giorni in collaborazione con SwissQuote sui cicli di Bitcoin, quindi se siete comunque interessati a capire come funzionano, se funzionano appunto i cicli su Bitcoin, iscrivetevi al webinar. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro sicuramente una splendida giornata. La mia lo sarà sicuramente perché sto imparando tantissimo sul Tecnica 2 e su come si muovono i mercati proprio grazie a tutte queste prove che stiamo vivendo all'inizio gennaio. Arrivederci.